Il progetto Fast Closing è un progetto che la proprietà giapponese ha imposto a Permasteriza e è un progetto che ha contribuito a stravolgere parecchi processi operativi interni all'azienda in quanto ha richiesto ad un'azienda che normalmente aveva un processo di chiusura contabile molto lunga in quanto attendeva i risultati dei progetti, ha chiesto all'azienda di accorciare drammaticamente il periodo di chiusura per una serie di esigenze legali nel mercato azionale giapponese. Quindi Permasteriza è stata costretta a rivedere i suoi processi al fine di chiudere all'interno di 7-8 giorni lavorativi dopo il proprio giorno del mese. Per fare questo un'area estremamente importante era assicurarci di ricevere le informazioni dai nostri fornitori che ad oggi non avevamo legato dal punto di vista informatico con l'azienda. Quindi il processo di fast closing e l'utilizzo di chiesi su questa soluzione è stata quella di implementare il portale fornitore e fare in modo che i fornitori riportassero in azienda il più rapidamente possibile le informazioni relativamente alle spedizioni e relativamente alle conseglie. L'Exil è la società che ha comprato Permasteriza nel 2011. L'Exil ad oggi è una società che a livello mondiale fa quasi una ventina di miliardi di dollari di fatturato e ha una fortissima presenza in Giappone, come è ovvio, ma ha anche una forte presenza sul mondo asiatico. Il mondo asiatico ad oggi è diviso all'interno fondamentalmente di 6-7 grossi paesi di cui quelli più importanti sono senz'altro la Cina, la Thailandia dove abbiamo una presenza enorme, Vietnam dove siamo molto grandi, India, Filippina e Indonesia fanno poi il resto del nostro fatturato in Asia. Su quest'area stiamo ad oggi facendo un roll out di SAP e per la gestione con i fornitori e per la gestione con le aziende produttive che non sono ancora su SAP abbiamo scelto di usare TG6-CM. Quindi la gestione dei fornitori direi che è abbastanza classica e tradizionale, quindi attraverso i portali e il link con fornitori esterni. La gestione delle aziende non ancora integrate o non ancora su SAP invece se vogliamo è un po' la realtà o un uso un po' diverso di TG6-CM perché fondamentalmente andiamo a considerare le nostre aziende produttive che però non sono ancora su SAP, come se fossero dei fornitori esterni per le aziende che invece lavorano già sul sistema integrato. È chiaro che questi fornitori speciali che poi sono aziende produttive nostre hanno esigenze e volontà di integrazione molto più spinta di quello che sia un fornitore terzo, quindi vuole e pretende una serie di integrazioni molto più spinte. Per dirne una, un nostro fornitore che è una produttiva nostra pretende di essere in grado di stampare bolle di consegne e fatture accompagnatorie che fanno invece riferimento all'azienda commerciale. Quindi tutte queste integrazioni molto spinte sono state realizzate attraverso la TG6-CM e hanno reso possibile un'integrazione molto forte tra le nostre aziende produttive, non ancora su SAP, e le commerciali che gestivano la produzione. Il processo di software selection è stato un processo, se vogliamo, abbastanza rapido perché abbiamo prima di tutto identificato il fatto che non avevamo una soluzione flessibile all'interno dell'IRP che andavamo ad operare. Abbiamo di conseguenza individuato alcune possibili soluzioni sul mercato, abbiamo fatto una serie di prove e di verifiche e abbiamo alla fine deciso che TG6-CM era la soluzione giusta per le aree che noi volevamo coprire, che fondamentalmente era il dialogo con i fornitori e il dialogo con le nostre produttive non integrate su SAP. Direi che il processo di selezione e il processo di verifica è durato relativamente poco, quindi nel giro di due o tre mesi siamo arrivati ad una decisione, abbiamo chiuso il contratto e poi la parte realizzativa si è accompagnata al rollout dell'IRP su quelle nazioni e quindi ha preso i 6-9 mesi che erano necessari per il rollout dell'IRP, ma diciamo che non è mai stato TG6-CM. L'aspetto più critico del rollout è stato ovviamente il rollout dell'IRP.